Buongiorno a tutti, oggi vi volevo presentare il nuovo SIGAR SICO, l'ultimo foro carbon che la Corea Chimical Carbon ha messo a disposizione per i nostri pesca sportivi. È un filo che comunque essendo di ultima generazione tutte le caratteristiche, le prerogative del foro carbon sono state messe a punto e migliorate, quindi abbiamo sempre la rifrazione in acqua, quindi l'invisibilità superiore rispetto a tutti i foro carbon presentati fino ad oggi, abbiamo una resistenza all'abrasione superiore rispetto sempre al foro carbon di vecchia generazione. È molto importante che sono riusciti a mettere a punto questo filo che unisce la rigidità che comunque caratterizza il foro carbon, però comunque ti permette di avere una presentazione naturale, più naturale dell'esca rispetto al foro carbon che sono stati presentati fino ad oggi sul mercato. Vi consiglio di provarlo perché noi l'abbiamo già utilizzato sia per le pesche, diciamo, dove è importante avere il foro carbon che tenga l'abrasione tipo Pisa, con Gatti e Clarius che hanno un apparato boccale munito di denti e quindi mette a dura prova le caratteristiche di abrasione e l'abbiamo trovato anche in acque care, sia in fiumi a pescare a barbi così, e Cavedani è andato anche lì degli ottimi locali. Grazie.